A Daruna una task force sarà in campo venerdì e sabato sera per contenere i numeri della Movida. Finanza, carabinieri, polizia, protezione civile e agenti della polizia locale cercheranno di limitare i numeri di accesso verso il lungolago Marconi, la strada dove sono ubicati una dozzina di locali che attirano giovani e meno giovani. Assicurato la massima attenzione è il neosindaco Federico Monti che promette di essere in campo per tenere sotto controllo la situazione. Il primo cittadino lancia un appello ai genitori, tenete a casa i vostri figli, in particolare i minorenni e per il bene di tutti. Il timore è che con la chiusura dei locali in Lombardia già alle 23 ci sarà un esodo molto numeroso verso la sponda piemontese del Lago Maggiore dove i locali dovrebbero, ed obbligo il condizionale, chiudere entro le 24. I clienti dovranno aver prenotato per poter accedere verso i locali pubblici, altrimenti sarà loro interdetto l'accesso alla via della notte. Per favorire i controlli venerdì e sabato sarà ripristinata la ZTL dalle 20 della sera alle 5 del mattino successivo. Per questo sono importanti i controlli da parte delle forze dell'ordine che sino alle 24 vigileranno sull'indossare correttamente la mascherina, sulle distanze personali e sulla somministrazione di alcolici secondo le normative previste. Sabato scorso si è registrato un nuovo coma etilico che ha interessato una ragazzina minorenne, trasportata poi al dea del Santissima Trinità di Borgomanero, ora è già stanza di messa. Anche questo però è un campanello d'allarme per i genitori che non debbono alleggerire i controlli sui propri figli. Un caso paradossale qualche giorno fa si è verificato in Piazza del Popolo, il salotto della città del San Carlone. Un uomo e una donna, non proprio giovanissimi, sono stati sorpresi in un esplicito atto sessuale in pubblico, non lontani dal molo del vecchio porto. Qualcuno ha chiamato gli agenti della municipale che tempestivamente gli sono giunti sul posto prima che l'atto fosse portato a termine. Identificati e denunciati per atti osceni in luogo pubblico ora rischiano un'ammenda di 10.000 euro a testa.